Più di 200 sindaci e delegati da tutto il mondo. Questi numeri attesi in occasione dell'Assemblea Internazionale di Città Slow 2023, che si svolgerà a Parma il prossimo 24 giugno. Un'associazione che raggruppa piccoli comuni e città, fondata nel 1999 Orvieto e basata sui principi legati alle città del buon vivere. L'evento di sabato sarà preceduto il 23 giugno dal primo summit internazionale delle città slow di Acqua Dolce a Polesina e Zibello. I temi trattati andremo dalla tutela del paesaggio, lo sviluppo urbanistico, al risparmio energetico, alla raccolta differenziata dei rifiuti, alle autostrade per le appi, alla tutela di insetti impollinatori, alla tutela del paesaggio e molto altro ancora. Parma, l'epicentro della footballe italiana, è sicuramente una delle migliori testimonial possibili. È qualcosa di perfettamente in linea con le politiche che stiamo mettendo in campo in tanti ambiti. Tra poco inizierà qui il Festival della Lentezza, quindi avere città slow in giugno con l'Assemblea Internazionale è una bella occasione. Bisogna capire bene cosa intendiamo con questo oggettivo, slow, lento. Non è qualcosa di negativo, anzi è qualcosa di profondamente positivo perché cambia il modo di pensare. Oggi è stata definita in questa conferenza stampa una modernità riflessiva. Ecco, va pensata così e dobbiamo riuscire a portarla il più vicino possibile ai cittadini. Fondamentale il supporto della Fondazione Parma Città Creativa Unesco per la gastronomia. Soprattutto noi dobbiamo essere attenti e creare molto interesse, anche più di quello che già esiste per la nostra città, quindi fare incoming anche di questi eventi, eventi internazionali che portano a dare una visione importante, europea, mondiale, internazionale di quello che è tutto un sistema Parma.